Buongiorno a tutti, il sentiero Livurgacci di Oraco. Dai, non succede niente, dai, non succede niente. Wow, è in piena. Andiamo, Eki, dai. Eki! Hai visto Eki? Aspetta. Hai visto? Non succede niente. Vi faccio vedere Eki. Vai pianino vai. Vai pianino, no? Aspettate. Aspetta. 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 Oco. Oco, oco. andiamo Aki vieni dai vieni con me ha paura dei ponti mannaggia Aki vieni 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 dai vieni 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 aspetta aspetta vieni 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 ecco che mi vieni 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 Vieni, birbande, hai paura? Dai! Vediamo tutti i mostri di Pioraco. Achi! Mannaggia! Questa fa la mattarella. Questo è grande. Poi c'è questo qua. Achi! Si comporta bene l'Asus oggi, eh? Zenfone 5Z, Full HD, 30 frame e Gimbal. Questo è molto grande. Poi abbiamo questo. Achi! Abbiamo un altro di qua. Bene, ci siamo. Ridi, eh, ridi. Posti meravigliosi, eh? Torniamo su. Il percorso è aperto, aprono l'estate. Buongiorno. interventions. rente Grazie a tutti. Grazie, questa non l'abbiamo vista. Non posso fare zoom, ma mannaggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il cane che vince il corso qui. La paura dei bondi vince. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Bye bye, la prossima. Mettete un like, grazie.